Il commissario delegato regionale per lo stato di crisi e di emergenze per il grave rischio incendi dovuto all'essenzionale situazione meteoclimatica in atto in Sicilia, l'ingegnere quindi Salvatore Cocin, ha firmato un avviso pubblico con cui ha disposto i criteri e le modalità di erogazione dei primi contributi alle aziende di allevamento zootecnico danneggiate dagli incendi dei mesi di giugno-luglio e compreso quello in corso. Le domande e ogni integrazione o comunicazione dovranno essere presentate esclusivamente via Pecca entro il termine per entorno di otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web della regione, pertanto entro il 20 agosto. L'importo massimo concedibile di 20.000 euro è comunque sino all'importo massimo consentito in materia di aiuti de minimis da servire, come specificato nell'avviso, per la ripresa delle attività produttive agricole e per garantire la sussistenza degli animali da allevamento per l'acquisto del foraggio, il ripristino delle recinzioni e delle tubazioni bruciate. Sono beneficiari dei contributi titolari di allevamento in possesso del codice ASL che ricadono nel territorio della regione siciliana. Le domande dovranno essere accompagnate da fascicolo aziendale aggiornato, documentazione fotografica sui beni incendiati geotaggata e altra documentazione asseverata, copia del documento identità del sottoscrittore in corso di validità. L'avviso pubblico del commissario delegato e il modello di domanda sono reperibili e scaricabili dal sito web della regione siciliana.